Ed ecco le vediamo una per volta, lei è Eleonora Beruzzini, è Miss Romagna e ha il codice 01. Eleonora è del senno giudicale del Cancro, è alta 1,76 m e anche se è nel gruppo action delle toste, ha portato con sé il suo orsacchiotto a salsa maggiore. E adesso 17 era il risultato? Ok, 17. Ilenia Neri, Miss Toscana, ha il codice 02, è alta 1,76 m e è del senno giudicale del Cancro. E adesso, mentre arriva verso di noi, noterete un tatuaggio di Marilyn sul suo braccio destro. Eccola qui, da casa fate anche voi le vostre scelte, le vostre valutazioni ora. Il numero c'è 03. Eccola, Benedetta Piscitelli, Miss Campania. Benedetta è alta 1,74 m e è del segno zodiacale del Cancro. E ha una grande passione per le scarpe, tant'è vero che ha una collezione di 60 paia di scarpe. Eccola qui in primo piano. Guardatela anche da casa. E adesso giuridora Laura Vernizzi, che è Miss Deborah Milano Abruzzo e ha il codice 04. Ed è il segno zodiacale della Vergine. Laura Vernizzi è una ginnasta. Ha vinto l'argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004. Guardatela anche voi la nostra ginnasta. Se passeranno, il vostro voto è fondamentale nell'equilibrio del giudizio finale. Lei è Eleonora Rosio, Miss Deborah Milano Lazio. È alta 1,71 m. Ed è il segno zodiacale del Toro. Dice di amare molto la cioccolata. Eccola qui nel suo primo piano da cinema. E anche voi da casa, fate le vostre scelte. Per il gruppo dell'action arriva Anna Rita Granatiero, codice 06, Miss Bella Professionals Puglia. Una ragazza alta 1,67 m. Del segno zodiacale dell'acquario. È singola attualmente e dice, per mia scelta, una tosta. Il pubblico a casa la sta guardando nel suo... Sono dieci ragazze, ma solo tre passeranno. Ricordatelo a casa. Cecilia Montorro e il codice 07, Miss Rocchetta Bellezza Emilia Romagna. Alta 1,72 m, è un'appassionata di fotografia. Ed è il segno zodiacale del Capricorno. I primi piani vi mostrano la loro fotogenia, anche dal punto di vista del cinema. Siamo arrivati all'ottava ragazza in concorso, è Nicoletta Taormina. Il suo codice è appunto lo 08, ed è Miss Valle Verde, ragazza in Gambissime, Sicilia. È alta 1,75 m. È del segno zodiacale dell'ariete. E lei stessa dice, attenzione, non provocatemi. Osservatela bene, l'avete vista nella clip d'azione. La vedete adesso nel suo primo piano, diciamo al naturale. Carol Beltram. Lei è il codice 09. È Miss Liabel Friuli, Venezia Giulia. Alta 1,73 m. Una ragazza del segno della bilancia, con una nota particolare. La mamma ha partecipato a Miss Italia. Quando era ragazza, naturalmente. Eccola qui. E adesso, dopo che l'abbiamo vista in primissimo piano, del film d'azione è Vittoria Tomasi. Miss Liabel Emilia Romagna. Il suo ragazzo è geloso. È la nota caratteristica che ci ha dato. Ed è del segno zodiacale del cancro. Andiamo allora adesso per... E comincia la sfilata delle ragazze della commedia. Giulia Massari, Miss Liguria, ha il codice 11. È alta 1,73 m. Ed è del segno zodiacale dello scorpione. Eccola qui. La prima delle nostre ragazze di questa commedia maliziosa e sexy. Guardatela. Eccola qui. Lei è Giulia Vecchio, infatti, restituitela il nome e il cognome e il suo codice, che è il 12. È Miss Puglia. È alta 1,74 m. Segno zodiacale dei pesci. Caratteristica particolare. Sa fare tutti i dialetti. E adesso, dopo aver visto il suo sorriso... E adesso, col numero 13, arriva Nausicaa Puzzu. Miss Sardegna. Lei è alta 1,73 m. Dice di se stessa di essere lunatica. E poi ha detto una cosa molto carina, dice che le manca la mamma. Eccola qui, Nausicaa, che è del segno dei gemelli. Lo osserviamo in primo piano. Col codice 14. Arriva adesso Chiara Generali, che è Miss Eleganza Campania. Lei è alta 1,80 m. È del segno zodiacale dell'Ariete. E ama la commedia napoletana. E, ovviamente... Eccola qui, nel suo primo piano. Chantal Raimondo. Chantal, codice 15, è Miss Sash, modella domani Piemonte-Valle d'Aosta. È alta 1,74 m. il segno zodiacale della Vergine. Dice di se stessa di essere una vera secchiona. Ma se tutte le secchione fossero così, vi vale secchione, allora? Allora, guardiamo invece... Il nostro giudizio, Elisa Spina, che è codice 16. Lei è Miss Deborah Milano Marche. È alta 1,74 m. È del segno zodiacale del Capricorno. Ci ha raccontato che si è iscritta per Ripicca, perché il suo fidanzato l'ha lasciata e quindi voleva farglielo vedere. Eccola qui, Elisa. Ecco il suo primo piano. Taxi, che porta il codice 17, ed è Martina Lombardo. Miss Deborah Milano per la Sicilia. È alta 1,71 m. Dice che il suo grande amore di questo momento si chiama Marco. Ma ha tre anni, è il suo nipotino. È del segno zodiacale del Toro. Ecco. La vedete. E adesso arriva Eliana Cartella. Codice 18. Miss Miluna Cielo Venezia 1270 per la Lombardia. È alta 1,65 m. E qui lei dice per prendersi una rivincita sulle ragazze alte. Segno zodiacale della Vergine per la nostra Eliana. E dopo... Vi ricordo sempre di votare le vostre preferite. Immacolata Pirone, il codice 19, Miss Rocchetta Bellezza Molise. È alta 1,65 m. Ed è il segno dei gemelli. Immacolata lavora in una impresa di pulizie. Eccola qui. Guardiamola in un primo piano cinematografico. E siamo adesso a Zahira De Felice. Miss Libel Campania. Ha il codice 20. È alta 1,70 m. Ed è il segno della bilancia. Come vedete vi mostriamo le nostre concorrenti nella loro clip, nel loro assolo. E poi qui in due pezzi al naturale, diciamo, per il vostro giudizio finale. Eccola qui.